No, rido, rido, rido perché mamma mia, 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 mamma mia. Allora, allora, io penso che le partite più infartanti della stagione della Juve l'ho vista tutte qua. Quindi nel luogo più indicato, nel luogo migliore per seguire le partite più infartanti veramente della Juventus della stagione non ci poteva essere, insomma, non ci poteva essere. Vabbè, meno male, meglio così, almeno stavo costantemente sotto controllo, dato che ho ancora, come potete vedere, la telemetria che controlla i battiti e la frequenza cardiaca. Meno male, diciamo che ho visto queste partite sotto controllo veramente medico, totale, totale. Vabbè, meno male, meno male. Allora, ragazzi, ciao a tutti, ben ritrovati, benvenuti in questo mio nuovo video, chiaramente il post-gara di Juventus, Samp 4 a 2. Abbiamo visto di tutto stasera, di tutto, veramente di tutto. Pronti via, due palle gol clamorose per la Samp in ripartenza, doppio vantaggio. Prima Bremer e poi Rabiot, e poi Rabiot. Quando sembrava praticamente che la Juve stava in controllo, ce l'hanno pareggiata in 72 secondi. 72 secondi, praticamente, con due palle malamente perse in uscita. Chiaro che lì la Juventus ha veramente un attimo staccato la spina. C'è stato un vero e proprio blackout totale, totale da parte della Juve. Due palli perse, due palle perse nell'arco, come detto, di 72 secondi. E la Samp ha fatto incredibilmente 2 a 2. Ecco, questo comunque a voler rimarcare quanto l'aspetto mentale talvolta veramente la fa la padrone, la fa la padrone in queste partite e nello specifico nel momento, nel momento attuale della Juventus, che tanto ragazzi sapete quello che è, sapete quello che è. E quindi il primo tempo veramente altalenante, altalenante nelle emozioni. E poi una ripresa nella quale Mister Allegri ha portato i due correttivi, che comunque hanno cambiato sicuramente la Juventus. Locatelli per Barrenecea e Quadrado al posto di Bonucci. E poi indubbiamente, indubbiamente la stagione stratosferica che sta facendo Rabiot, che di fatto, di fatto si costruisce da solo il gol del 3 a 2. E poi, insomma, il momento di Dujan Blaovic è questo qua, è questo qua ragazzi. È un momento che va così, palo cramoroso su un rigore battuto praticamente in maniera perfetta. Non riesce poi dopo a riscattarsi, nonostante lo stadium, e faccio veramente un plauso, un plauso allo stadium, perché lo stadium ha capito il momento di Dujan Blaovic, che ce la sta veramente mettendo tutta, ce l'ha messa veramente tutta stasera per andare a fare questo benedetto gol. Magari, ecco, speriamo, speriamo che se li sia tenuti e per il Friburgo, e indubbiamente poi dopo per l'Inter, prima della sosta. Però ha reagito, però ha reagito Blaovic, ha reagito con grande carattere, con grande impegno, con grande voglia. E poi indubbiamente, indubbiamente ci metto in questa partita anche la prestazione di Fagioli. Fagioli è un giocatore che si è preso la Juventus con la naturalezza, con la bravura veramente del predestinato, perché un giocatore che ha quell'età e che gioca con la maglia della Juve, in questa maniera, cioè stasera praticamente credo che Fagioli non abbia sbagliato neanche un pallone che sia uno. Ha trovato sempre linee di passaggio, ha dato sempre respiro alla manovra nel momento in cui stavamo un attimino sotto pressione, ha trovato poi in avanti lo sbocco per far praticamente, poi dopo ripartire al meglio la manovra. Quindi indubbiamente la stagione di Fagioli si inquì sicuramente un upgrade, un upgrade di questo ragazzo veramente importante. E poi dopo su questo cross di Kostic, guarda caso, c'è stata la capocciata di Vlaovic che si è stampata sul palo, mi sembra, con la deviazione del portiere della Samp, e Sole che ha fatto il tap-in del 4-2 che se non altro ci ha evitato di non infartare negli ultimi 30 secondi di partita. E dunque, ragazzi, a margine di tutto ciò, come ho detto tantissime volte nelle live che ho fatto, prima che finissi qua all'ospedale, quello che conta in questo momento sono i punti, quello che conta sono le vittorie, la Juventus in questo momento sarebbe seconda in solitaria con 53 punti, avremmo staccato di tre punti l'Inter e sarebbe seconda in solitaria. Ecco, bisogna ragionare in quell'ottica, bisogna fare punti, bisogna vincere partite, questa vittoria con la Samp era importantissima in una settimana poi nella quale arriva il Friburgo in trasverta e sarà un'altra partita sicuramente complicata, complicata da andare a svangare e prendersi i quarti di finale della Europa League, che come sapete è obiettivo primario per la Juve in questa stagione per accedere alla prossima Champions League e poi chiaramente si chiude con l'Inter in trasferta prima della sosta, prima della pausa per le nazionali. Ragazzi, detto questo, io spero vivamente che questo sia l'ultimo video che vi proporrò qui dal reparto cardiologia dell'ospedale di Macerata, in teoria domani, lunedì, dovrei andare a casa, dovrei tornare a casa e quindi spero di ritornare con le nostre live, con le live reaction in compagnia del mitico Ale e lasciatemi un'altra volta davvero fare un applauso, un ringraziamento grande come una casa a questa struttura, a tutte le infermiere, che tra l'altro quasi tutte donne, quindi mi sono trovato veramente nel mio habitat più congeniale, veramente un applauso, ringraziamento a tutto lo staff medico, a tutte le infermiere che in ogni istante mi hanno fatto sentire supporto, vicinanza, dato che se finisce in questo contesto, ragazzi, perché non si sta bene e quindi il lato umano, l'aspetto umano indubbiamente è fondamentale, quindi non solo la bravura a livello professionale di chi lavora in questa struttura qui a Macerata, ma veramente anche il lato umano, veramente umano, ti fanno sentire, non dico a casa tua, ma veramente siamo lì, siamo veramente lì. Ragazzi, mi fermo qua, mi fermo qua, vi saluto e spero di poterci rivedere per il post-gara di Friburgo Your Live qui sul mio canale YouTube. Detto ciò, contava soltanto vincere se vinto con una Juventus, veramente, è proprio il caso di dirlo, da infarto, dall'infarto. Ciao a tutti, ai prossimi appuntamenti, e come sempre, fino alla fine, vanno su due, ciao, 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 ciao.